Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi, domenica, giorno del Signore, giorno della festa, è il giorno in cui il Signore chiede a noi di gioire, di liberarci da ogni peso che ci avvenisce, da ogni cosa che ci distrae dalla sua presenza, da qualunque cosa che ci rende schiavi, sottoposti passivamente alle forze che ci stanno attorno, perché i figli di Dio devono vivere nella loro libertà, i figli di Dio devono vivere nello spirito di amore e di gioia, nello spirito filiale, che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, lunganimità, dominio di sé. Ecco, allora, giorno di festa, il Signore chiede di dargli culto, ma con lo spirito, non semplicemente con degli atteggiamenti, con dei ritmi, ma con la vita. Allora noi celebriamo l'Eucharistia, in modo particolare nei giorni di festa, per celebrare che siamo stati salvati, che siamo salvati, perché ogni volta che noi celebriamo l'Eucharistia, facciamo in memoria della passione, morte e resurrezione di Gesù e come abbiamo ricordato più volte in passato, questo fare memoria non è ricordare, è rendere presente la parola di Dio, nella liturgia rende presente il mistero che viene celebrato e quindi noi veniamo immersi in questa realtà. Il sacrificio di Gesù non è un fatto passato, è un fatto perenne, sempre presente, che si manifesta attraverso la celebrazione, prima di tutto della proclamazione della parola e attraverso i gesti sacramentali, quel mistero di amore viene reso presente e ci tocca particolarmente e noi, proporzione della nostra fede, veniamo immersi in questo sacrificio, veniamo ristorati, rigenerati e quindi noi non celebriamo che abbiamo speranza di salvarci, celebriamo che siamo salvati, come ci afferma San Paolo nella prima lettera dei Corindi, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, noi celebriamo la passione del Signore finché egli venga, noi veniamo uniti a questa passione e celebriamo che siamo salvati, celebriamo che Cristo è in noi, che Cristo è in mezzo a noi, c'è una potenza di grazie, fratelli, c'è una ricchezza, ecco perché in passato si diceva che è peccato mortale non partecipare all'Eucaristia, ma per tanti poteva sembrare una cosa paradossale, un peccato mortale, ma non nel senso che tu fai una colpa grave, ma nel senso che ti privi di un bene indispensabile per arricchirti, non è certa la presenza passiva di entrare in chiesa a testa china aspettando che il sacerdote dica la messa è finita e andata in pace, non è questo quello che conta, è lasciarsi coinvolgere, lasciarsi coinvolgere da questo mistero d'amore di cui ogni anima deve essere impregnata. Allora la potenza del Signore si manifesta a livello individuale, cioè ribeneficia la nostra anima, ma si manifesta anche a livello sociale, cioè familiare, a livello politico e sotto tutti gli aspetti c'è potenza nel sacrificio di Gesù, per questo non è mai una cosa buona trascurare, ma ripeto non si tratta di andare in una chiesa, si tratta di andare a celebrare insieme alla comunità, a celebrare il mistero di Gesù Cristo, a nutrirsi di quel mistero d'amore, impregnarsi, quindi non è il caso di arrivare all'ultimo minuto e uscire un minuto prima o guardare l'orologio per vedere quando finisce, si tratta di immergere la propria vita e questo sacrificio allora deve nutrire la nostra esistenza e nello stesso tempo deve modellare la nostra vita per affrontare la quotidianità con lo spirito rigenerato, rinnovato, ma lo spirito da figli di Dio. E nella liturgia di oggi, cosa interessantissima, la Chiesa ci presenta a Gesù che annuncia il Vangelo in modo particolare dopo il martirio di Giovanni Battista, cosa che doveva creare un po' di perplessità perché a quel tempo Erode era amministratore della Galilea dove Gesù esattamente svolgeva il suo ministero, quindi il martirio di Giovanni Battista lo doveva intimorire, infatti un giorno gli fu riferito che Erode lo voleva vedere e lui risposa andate a dire a quella volpe, Gesù non gli risparmia titoli, lo qualifica per quello che lui si manifestava, per come si comportava, non certo da saggio amministratore, ma di qualcuno che oppremeva la popolazione e le ritorzioni che lui faceva. Gesù non si intimorisce, ma al contrario però dice il Vangelo, vedendo la grande folla che lo seguiva, ne ebbe compassione perché era come un greggio senza pastore, un greggio sbandato, come siamo tantissimi oggi, un greggio che non sappiamo dove andare, non sappiamo anche governare dove ci vogliono condurre, è tutta una vita misteriosa, i valori di prima sembrano tutti aboliti. Bene, Gesù ha compassione di questo greggio, così possiamo dire che oggi, 2 agosto, Gesù ha compassione del suo greggio e guarda a noi con questa grande compassione perché vede i disagi che abbiamo, i problemi che stiamo affrontando, le difficoltà che si stanno presentando davanti ai nostri piedi, lui ha compassione, qual è il frutto di questa compassione? Il nutrimento di quella folla che aveva fame e Gesù provvede il pane, provvede i pesci perché mangiassero tutti. Qualcuno oggi dice, ma Gesù fece un'opera di condivisione e mosse le coscienze di tutti perché tutti spartissero con gli altri quelli che avevano. No, Gesù fece ben altro, operò un prodigio, perché la mano del Signore non si è accorciata. Sono produgi, fratelli, che nella storia della Chiesa si sono ripetute tantissime volte. Se vogliamo andare vicino a noi, San Giovanni Bosco, mentre sua madre arrostiva le castagne, lui le distribuiva, e la mamma diceva, danne meno, danne meno, perché non ne abbiamo per tutti. E lui continuava a darle a mangiate, e tutti ne ebbero, ne avanzarono. Perché? Perché il Signore era presente. E' rimasto famoso. Peccato che questo libro non è più tanto in voca, perché sapete che le librerie, gli editori ogni tanto, per non fare i depositi, mandano al macero i libri avanzati. Ma se lo trovate, questo bellissimo libro, Miracolo a El Paso, di un grande teologo francese, René Laurentin, il quale, avendo sentito parlare nel 72 di un prodigio che era avvenuto in una comunità, volle andare a visitare questa comunità. e a El Paso, a Juarez, sono due città, separate dal rio grande, da un fiumiciattolo. Juarez si trova nella zona messicana, e a El Paso nella zona americana, statunitense. Naturalmente, il divario economico tra le due città a quel tempo era enorme. E allora, tanti raccoglitori di rifiuti andavano dalla città di Juarez a El Paso per potersi guadagnare qualcosa e con quello che raccoglievano riuscirono a mangiare due o tre volte alla settimana, non è che potessero fare vita ad Annababbi. E nel Natale del 72, una comunità di preghiera guidata da un sacerdote gesuita, un certo Rick Thomas, leggendo la parola di Dio, trovò queste parole che diceva quando sei invitato a pranzo, quando fai un pranzo, non invitare chi ti può invitare a sua volta, ma invita i poveri, i deboli, quelli che non possono contraccambiarti. E così questa comunità disse mettiamo in pratica questa parola. E per Natale, allora, invece di fare il pranzo in casa, prepariamo un ristorio per quei raccoglitori di rifiuti. Ne erano 350 circa. Però, essendo il giorno di Natale, dissero, ma quante persone ci saranno sul posto? Saranno centinaia di persone. Bene, allora, allarghiamo un po'. Prepariamo per 120 persone. Quando questi andarono sul posto, anziché 120 persone, trovarono le solite 350 persone che raccoglievano i rifiuti, perché per loro, dal momento che non mangiavano mai, non c'era né Pasqua né Natale. E allora il sacerdote non rimase male. invitò tutti a radunarsi, fece fare loro una preghiera. Siccome questi poi erano divisi in due sindacati, fece fare una preghiera di rappacificazione tra di loro, alla fine disse, ci scusiamo, fratelli, perché pensavamo che fosse meno, però vogliamo condividere con voi quel poco che abbiamo. e cominciarono a distribuire, spezzettando quelle che avevano preparato, perché quelle che avevano, era pronto per 120 persone, doveva bastare per 350, quindi le porzioni dovevano essere suddivise. Ma si accorsero che, mentre distribuivano, il materiale aumentava, al punto tale che, alla fine della distribuzione, pensarono di darne a ciascuno un asporto e portarsene a casa. E alla fine raccorsero tanti di quel materiale avanzato che andarono a fornire due orfanotrofi, altro che errori di valutazione. Vedero sotto i loro occhi moltiplicarsi il cibo. Allora tanti di loro capirono che il Signore voleva qualcosa da loro con questo segno. Allora trenta uomini si consagrarono a lavorare unicamente per i poveri. E per anni loro facevano la distribuzione di cibo gratuito ai poveri ogni giovedì. celebravano una santa messa, pregavano per gli ammalati, poi distribuivano il cibo ai poveri e quando mancavano le scorte di cibo, questo si moltiplicava sotto gli occhi della gente. Un giovane raccontava a questo teologo come una volta lui era stato invitato a distribuire delle prugne, quindi dava cinque prugne a testa, ma man mano che dava le prugne, queste prugne aumentavano. E alla fine cominciava a prendere manate. quando ne volevano e alla termine della distribuzione la cesta era piena. E questo fenomeno è durato per anni, non un giorno, una volta. Oggi tanti hanno paura a parlare della moltiplicazione dei panni come se fosse un'invenzione degli apostoli. no, gli apostoli non hanno inventato niente, hanno solo testimoniato. E così anche ai nostri giorni, il Signore ci viene incontro, la sua mano non si è accorciata. Allora nella teologia, oggi il Signore si dice, venite a mangiare il mio pane gratuitamente. E San Paolo ha detto, a chi ci riseparerà dall'amore di Cristo? Nessuno ci può separare da quell'amore, né morte né vita né angeli principati, né presente né avvenire né altezza né profondità, né alcun'altra natura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. E quel Gesù che ha moltiplicato ieri il cibo, lo fa oggi, moltiplicando il cibo per il cuore, il cibo per l'anima e il cibo anche per la vita. Grazie, Signore. La Tua mano è sempre pronta, ma soprattutto il Tuo cuore grande e misericordioso è sempre pieno di compassione. E oggi Tu chiedi a tutto il nostro popolo fede in quella compassione, fede in quella providenza, fede in quella misericordia. Vergine Santissima, grazie, con la Tua presente Tu illumini la parola del Vangelo e ci rendi credibile ogni parola che uscita dalla bocca di Gesù. Col Tuo Spirito Materno aiutaci a nutrirci non solo di pane di cui abbiamo bisogno, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Gesù, a cui salga ogni lote, gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E buona domenica a tutti, fratelli e signori, illumine questa giornata con questo cibo che salzi tutta la vostra vita.